Buongiorno amiche, buongiorno amici, non ho mica ancora terminato di raccontare della gita di sabato, poi sapete, per la tangente, racconto tutto, tutto, anche le cose tristi, però ecco, ci insegnano tante cose, ci ricordano, ecco, di rimanere umani i certi incontri, anche nelle giornate liete, ecco, adesso parliamo di cose tristi, ma è nella vita, nell'arco della giornata, nell'arco della settimana, di un mese, di un anno, di dieci anni, proprio di una vita, ma quante cose accadono e quindi si può essere sempre felici, si può essere sempre allegri, si deve essere sempre tristi, lieti. Allora, ci sono una serie di interviste fatte alla signora Simonetta Agnello Horby, che sto assorbendo quotidianamente. Alcune, quelle che mi colpiscono un po' tutte, per la lucidità di questa donna, per il suo mondo interiore che lei manifesta anche senza parlare, e sarà un po' per la vita che ha fatto, per i trasferimenti, per le scelte, per gli accadimenti, no, come per tutti, com'è che siamo così a una certa età? Ma già un bambino, dopo pochi anni, manifesta qualcosa che è l'incisione nella propria vita di quanto lo ha circondato. Quindi, com'è che siamo? Come saremo stati? Lo sapremo solo l'ultimo giorno di vita su questa terra, perché fino ad allora quanto ancora può mutare. Simonetta Agnello Horby, non la chiamo Simonetta perché non siamo amiche, non siamo conoscenti, anche se poi quando leggiamo ci sembra di entrare nel mondo, anzi entriamo nel mondo, riconosciamo qualcosa della vita che la persona ha trasferito nei propri romanzi, se si tratta di romanzi, di narrativa, e sta lì e si sente che è parte della propria vita, anche se poi magari quella cosa, quel carattere, quel colore appartiene ad un personaggio che poi magari è anche tutt'altro nel racconto. La signora Horby manifesta molto di sé, ma io vi vorrei consigliare tre letture, ecco ho preparato qua la tavola per parlare d'altro, e poi perché ce l'ho negli orecchie questa cosa, nella testa, nella mente, nel cuore, queste cose che vi voglio raccontare. Allora facciamo così, lo mettiamo subito qua, via, lo mettiamo subito qua in mezzo, sperando che non mi faccia cascare tutto. In quel libro ho trovato, ho trovato una pseudoperizia, un certificato, tutta una tiritera, guardate che è fatta da uno dei neurologhi che mi visitarono dopo un incidente che patì, brutto, 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 perché ne ho subiti pochi, non c'è stato un episodio singolo nella mia vita di trauma facciale, non ne parlo mai, non anticipo mai, non me ne frega niente, diciamo, filtro un po' per evitare questioni in rete, ecco. Sappiamo che ci sono anche persone poco intelligenti o aggressive o comunque, ecco. Ho subito più di uno nella mia vita, ho iniziato prestissimo a subire traumi facciali cadendo, spiaccicandomi, questo penultimo, perché dopo ce n'è stato un altro non così grave, ma io colpi in faccia, in testa, guardate, me ne ricordo mai tanti e questo accadde a Rocca di Papa, avevo le buste della spesa, adesso non ricordo se ero uscita dall'ufficio postale o dal negozio subito dopo, un negozio di detersivi, fatto sta, ero già passata in frutteria al chiosco, avevo due buste della spesa, non uscivo sempre col carrellino, perché a volte si parte, che si deve prendere una roba e poi se ne prendono di più perché non ci aspettiamo magari o un'offerta o un prodotto che non avevamo proprio considerato o più di uno. e quindi avevo due buste della spesa, avevo una borsa, le mie solite, una shopper alla spalla e avevo appena attraversato la strada, avevo guardato, senso unico a salire di fronte a questi due esercizi, diciamo, c'è una scuola privata, un istituto gestito da suore, c'era delle auto, ce n'era rimasta una, un'auto che stava aspettando l'uscita dei bambini, ecco, io avevo sentito la voce, un genitore, un nonno, non ricordo comunque, avevo proprio visto bene la macchina, la persona davanti all'entrata, il bambino che stava uscendo per mano ad una sola, quindi avevo già attraversato e mi ero messa su una quasi marciapiede, che non si può proprio definire marciapiede, era questo spazio, era intervallato da un tratti di ringhiera, vabbè, comunque, accostata alla parte di là, insomma, alla parte di fronte, ecco, alle costruzioni di rimpettaie, ecco, mi stavo incamminando, mi stavo, ecco, anzi, mi ero già incamminata sul lato destro, per quanto si potesse tenere un lato di quel percorso pedonale, che arriva, fa la curva una signora, anche lei, con un'unica borsa, un piglio bruttissimo, guardate, l'espressione di quella signora ce l'ho ben presente, anche se perciò un colpo in faccia, brutta arcigna, che mi ha dato, anziana parecchio, che mi ha dato una tale spallata, ma una tale spallata, e non si è neanche fermata, io mi sono rimasta proprio un po' così, e mi ha spinta proprio, mi ha dato una spallata, io stavo cadendo, avevo le mani occupate, stavo cadendo verso la strada, io avevo già sentito il motore dell'auto partire, quindi il mio terrore è che adesso se casco mi mettono sotto, perché sapete, non è tanto la velocità che è importante, ma se si è a pochi metri da un'auto, anche appena partita, per quanto uno possa essere lucido mentre guida, i tempi di reazione, vate la pesca, uno può aver visto due signori su un lato che si erano in camminate, gira un attimo la testa verso magari il bambino, che ne so, basta un attimo proprio, e uno si ritrova davanti una persona per terra, e non c'è il tempo, quindi io non avrei mai dato colpe a nessuno al riguardo, ma il terrore di rimanere sotto delle ruote, guardate, mi ha fatto venire altro che pelle d'oca sullo stomaco, e la spinta mi ha fatto mettere il piede su un buco piccolo che era sull'asfalto, perché anche questo pseudo camminamento era asfaltato, un buco piccolo, c'è andata la punta del piede, sono caduta in avanti, cadendo in avanti e di lato, poi in diagonale, diciamo, no? E quindi per evitare di andare sotto alla macchina con tutta la forza dei miei addominali, perché erano gli unici muscoli che potevano reagire mentre stavo cadendo, quindi non so se si riesce a immaginare la dinamica, mi sono allanciata da una parte, quindi sono caduta dritta poi alla fine davanti a me con la faccia, la faccia che si è spiaccicata sull'asfalto e ho sentito i crack, tutti i crack del mondo e sono rimasta per terra, con le borse che me ne stavo, non so se le stavo lasciando, comunque il fatto di avere le borse, il fatto di dover dare quella colpo di addominali, con le spalle, col busto, perché poi il bacino più di tanto non si poteva neanche muovere in quel momento, sono caduta in terra e non vi dico, ho perso i sensi, non vi dico il dolore, non vi dico proprio, non riuscivo a riprendermi perché avevo tutto un ambardam per la testa e sentivo una voce lontana e una persona che mi ha sollevata senza neanche considerare che poteva anche provocare dei danni, sapete che non importa, la spina dorsale è molto elastica ma ecco a secondo poi dell'età, a secondo del modo in cui si cade e infatti ha accusato anche degli schiacciamenti delle vertebre con quella caduta lì non solo sul collo, ma devastata quella cosa lì, lussazione di entrambi alle spalle, la frattura, vabbè, adesso non entra neanche, però ero un mostro, io sentivo il sangue, ero un mostro già, il signore che era appena partito con l'auto è sceso dall'auto, mi chiamava, mi ha appoggiata al muro per terra mettendomi vicino le borse dicendomi non posso fermarmi, ho il bambino in macchina, non posso fermarmi e se ne andò. Dopo un po' io ero lì che continuavo a svenire, riprendermi, ero proprio in uno stato confusionale, guardate che ho ben chiare quelle parte che quando chiudo gli occhi se ci penso ecco io sento di nuovo tutti quei crack della faccia e scendono, ho la visione di due suori che scendono che sorpassano, mi guardano, non si avvicinano e se ne vanno, nessuno che abbia chiamato i soccorsi, nessuno che mi abbia fatto arrivare un'ambulanza, io ero lì per terra, dei ragazzi erano passati davanti a me prendendomi pure in giro, ma fossi stata anche la peggiore ubriaca della terra, poi perché pensare a quello, ecco nessuno che mi ha chiamato i soccorsi, quindi quando io ho visto quella signora stazione con quella disperazione nel pianto silenzioso, guardate poteva essere, perché quando siamo nelle stazioni pensiamo sempre al peggio riguardo agli altri ed è anche vero, bisogna avere mille occhi e infatti la signora purtroppo aveva subito quello che aveva subito, però davanti a un pianto, davanti a una persona sola dove non c'è nessuno che se ne può occupare, ecco io non lo so come si possa riuscire a far finta di niente, poi magari possiamo fare anche niente, dipende come in quel caso, meno male che c'era già una signora bellattiva che se ne stava occupando e quindi dovevano fare questa denuncia lì alla polizia ferroviaria che a volte non sono presenti, a volte è chiusa la porta, insomma è sempre una cosa brutta, in quel caso io non so guardate ma dopo tanto, sono stata tanto per terra, sono riuscita a prendere il telefono, non so come ho fatto a parlare perché avevo una devastazione sulla faccia, in bocca, sulla faccia, il naso manco con la, non mi ricordo se mi fecero l'attacca o che cosa, poi ebbi un malore, quindi vuoi, vai, flebo, cardiologo, vabbè è tutta una roba così, anni fa, parlo di alcuni anni fa, ho avuto la capacità di chiamare la mia vicina di casa e meno male che avevo il segnale, che in quel punto lì c'era campo perché sono zone dove siamo martellati di tempestate e di antenne ma il segnale spesso non c'è, si formano proprio dei buchi di campo e la mia vicina di casa, tra l'altro padrona di casa nostra, quindi stava sotto di noi, è arrivata col colore in testa, povera donna, era in pigiama col colore in testa, non so cosa, guardate, non lo so cosa, ecco, mi portò a casa e poi chiamo lei Camilla che era al lavoro, per fortuna era a Ciampino all'epoca ancora, prima, insomma, prima delle, era mattina, la mattinata sono visto dire gli orari, dovevo prendere l'autobus e la navetta per tornare a casa, quindi ho aspettato a casa poi Camilla che mi ha portato, ho voluto aspettare Camilla ma avrebbero portato all'ospedale, ho voluto aspettare Camilla per non spaventarlo ulteriormente, ho detto almeno viene a casa, sa che sono a casa e andiamo, sono rimasta al pronto soccorso dal primo pomeriggio fino alla tarda sera, mi ricordo, saranno le dieci e mezza di sera che sono uscita dal pronto soccorso, non ho voluto il ricovero, ho detto me ne sto a casa, tanto devo stare in osservazione, ho detto sto a casa con i miei figli, anche perché mi hanno lasciata lì, non c'è stato un, com'è che si chiama quando devono fare, prima stabilire no voi che tipo di accidente avete, che priorità, ma c'era un infarto nell'ospedale di Albano al pronto soccorso, per un infartato hanno bloccato tutto il pronto soccorso che non si fa, è una questione di disorganizzazione e siamo rimasti lì, fate conto che ho avuto bisogno ad andare al bagno, ma iniziavo a non muovermi più con le braccia, non avevo la capacità di abbassarmi, è stato un trauma non da poco, mia figlia si è occupata di me che mi ha portato al bagno, avevo bisogno di pulirmi il viso, avevo sete e non muovevo la bocca, quindi mia figlia ha preso acqua e non so come è riuscita a farmi bere, ma io ricordo che in tram c'era tantissima gente, l'unica insanguinata ero io e c'era un signore anziano, molto anziano, lo vedevo bello vispo, non so per che cosa era lì, avevo capito che avevo avuto un incidente in campagna, però nessuno che gli ha dato da bere, nessuno che gli ha dato da mangiare ed era lì dall'ottima e mezza del mattino, quindi ecco, ora siamo messi sempre peggio. Quindi da quella volta lì io ho provato uno tale spavento, ma a parte per me, ho pensato a mia figlia, dico, ma a mia figlia gli succede qualcosa per strada, ma cosa pensano? Che sia una drogata e fosse anche, perché a me e mia figlia, guardate che noi abbiamo visto di tutti i colori, a me Camilla è capitato di vedere crollare per terra una ragazza giovane, tossicodipendente, tra la strada e l'atrio di un palazzo. All'epoca non avevo ancora fatto il corso di primo soccorso, misi in sicurezza Camilla, chiamai, eravamo vicino alla vecchia sede della pubblica assistenza in via del Prione, chiamai soccorsi e io non avevo il cellulare, feci chiamare, non so se da un bar, l'ambulanza, me ne andai da lì quando l'ambulanza era già a pochi metri, ecco. Quindi pensare ai nostri figli o ai nostri parenti, ai nostri cari, gli succede qualcosa, il giudizio sarà ubriaco, sarà drogato, ben gli sta, ecco non si fa, non si fa, non si può proprio fare, non si dovrebbe proprio fare di ignorare o di delegare agli altri sempre un intervento, non si fa, ma manca un po'. Quindi il mio terrore poi non è rimasto a me, mi succede qualcosa per strada, mi lasciano per terra, non mi ricordo neanche se mi ero fatta la pipì addosso, ma forse no, ma io ho sempre pensato, Camilla ha avuto un incidente, ce l'avevo già avuto, Camilla ha avuto proprio un incidente sulla via dei laghi, un colpo di sonno, era uscita dal lavoro e nel rettilineo della via dei laghi uscì fuori strada, buttò giù un palo che era proprio lì e andò dritta su un muro di sassi, venne sbalzata indietro la macchina leggera, una matiz e si capovoltò, e da dietro aveva un suo collega che lavorava al bar dell'aeroporto, era rimasto, sapeva che era Camilla quella davanti e non erano attaccati ma l'ha presa, l'ha ribaltata ancora, per far uscire la mia figlia dalla macchina sono arrivati i vigili del fuoco perché non era in grado, buttata via anche il motore nuovo, non l'ho mai vista, mia figlia pensavano che fosse in chissà quali condizioni, ha avuto un taglietto sotto al mento e poi abbiamo riscontrato, perché anche lì io in faccia ho delle micro fratture, ma non se ne sono accorti con gli accertamenti fatti lì per lì, infatti poi le visite dopo, le menate che bisogna sopportare, e Camilla poi uscì fuori che aveva una micro frattura alla mano, però per fortuna ecco è stata soccorsa subito dal collega, i telefoni, eravamo a Ciampino, quindi i vigili del fuoco lì, le ambulanze non è andata in ospedale, poi per calmarla ce ne abbiamo avuto dei bei giorni, abbiamo dovuto pagare anche i danni del palo e del muretto, un buco così, quindi per fortuna è stata soccorsa, ecco questa cosa, questa cosa di sabato, è vero che sono anche soccorritrice, lo sono forse proprio dentro di me, perché i primi soccorsi l'ho fatto perché ero proprio bambina del colonio, e poi per lavoro, mi sentivano male, capitava insomma alle persone anziane dove ho lavorato, nei saloni, facciamo un bel corso di primo soccorso, visto che in casa ne abbiamo avuto bisogno, e servivano i volontari, all'epoca non c'era il servizio al 118, c'erano delle sedi nei vari territori, delle sedi da noi, la pubblica assistenza in altre parti e la misericordia, che partivano in caso di incidenti anche in autostrada dove stavamo vicino, insomma erano questi i servizi, non partivano dagli ospedali e basta, nell'entroterra c'erano queste sezioni di volontari, tra autisti e bareglieri, H24, quindi la nostra è una sezione che lavorava tanto perché essendo un paese dove molti uomini lavoravano, erano, come si dice, soci, no, com'è che li chiamano, vabbè, erano portuali, lavoravano a giorni alterni o appunto avevano, erano organizzati con dei turni e quindi grazie a loro, grazie ai portuali, quella sezione è sempre stata aperta e ha lavorato tanto sia per portare come servizi, come si chiamano, civili, nel senso si portavano le persone che avevano bisogno per la dialisi o per visite mediche, le persone non deambulanti in ospedale e sia per le emergenze, quindi ecco perché ho fatto anche io un corso, non lo so, ho sempre sperato mi dovesse capitare, ma niente, non mi è mai capitato niente durante i miei turni di disponibilità, di volontariato perché ero terrorizzata comunque, però in qualche modo si fa, e ho sempre fatto, guardate, quando mi è capitata la necessità, anche brutta proprio, dove ho visto morire dei ragazzi, insomma, poi parte qualcosa e si diventa attivi, io che guardate non riesco a fare un'iniezione manco a minù, guardate, parlatemi di aghi, io scappo, ecco, sono agofobica, e quindi dici, ma avete finito male, finito male la giornata, no, no perché ormai, ecco, tornando alla signora Horby, lei ha scritto un libro, La Contintizza, adesso non mi ricordo di preciso come si chiama, non so se è un racconto o un romanzo, comunque è un libro, dove lei parla di questa condizione, no, che è al di là della felicità, come si spiega quella, la persona contenta, no, cuor contento il cielo aiuta, è una propensione all'accettazione di quello che ti può capitare nella vita, è una, adesso spesso molti la chiamano positività, va oltre, è l'accettare, sì, più o meno, quello che hai, quello che puoi fare, non disperarsi nelle situazioni disperate, ecco, quando ci si riesce, ecco, nei momenti bui della vita, ecco, se si è, se dentro di noi abbiamo quella condizione e la coltiviamo, la contintezza, che non è, se oggi sei contenta, no, è quella voglia di vivere, quel rispetto per la vita e per gli altri, ma proprio per quello che ci capita, come siamo nati, dove siamo nati, ecco, certo, avremo le nostre battaglie, avremo, avremo tanto da fare, ce l'abbiamo tutti, guardate, io non l'ho mai invidiato nessuno, perché quando ho visto invidiare persone che poi in casa hanno avuto dei dispiaceri, che faresti cambio, ecco, per qualche casa, per dei gioielli, per la servitù fissa, per arredi, faresti cambio con quel dolore, ecco, e quindi parliamo della conclusione, poi la conclusione non è stata quella, perché abbiamo chiacchierato con Grazia, poi non è che io rimuovo, è vero, mi rimane, rimango un po' toccato, non è che rimuovo, però so che in questo istante ci sono bambini che nascono e ci sono bambini che muoiono, ci sono persone felici che si innamorano a persone che si lasciano, ci sono persone che trovano lavoro, ci sono persone che non lo trovano e non lo trovano da tempo o lo hanno appena perduto e pensavano che potesse essere il lavoro della loro vita, ci sono persone che vincono e ci sono persone che perdono, quindi questo è come si approccia, allora rimaniamo cattivi dal primo giorno, dalla prima ora dal risveglio fino a sera, non è così, non è quello, non si può approcciare così la vita, non è vivere, ecco, è subire, ce l'ha uno scopo questa vita, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha e quindi come l'abbiamo finita la giornata? L'abbiamo finita chiacchierando in treno, l'abbiamo finita quando sono scesa io dal treno, una signora si è imbestialita con la capotreno, perché lei ha avuto, ha detto, sono rotte le porte, no, sapete le porte scorrevoli tra una carrozza e l'altra, ecco, non scorrevano bene, ho dovuto fare veramente molta, esercitare molta forza quelle leve e ce l'abbiamo fatta, perché il treno era lungo, le banchine sono corte, quindi avevano avvisato già da tempo, infatti noi c'eravamo osse in stratempo, grazie a me ha aiutato arrivare alla porta, all'uscita della carrozza scelta, l'avevamo in testa poi alla fine, ecco, e poi uno sale se è un accidente, dove sei, se la seconda, la terza, la quarta carrozza, e questa signora l'ho vista proprio diventare diabolica, cambiare l'espressione, urlare, proprio piegarsi in due verso il treno, poi agitare le bravi, poi una demoniata, ha detto di quelle parolacce alla capotena, perché hanno avuto timore che potesse partire il treno e loro erano, poi io mi sarei scesa comunque, stando attenta, non cadere, mi è già successo insomma, erano altre situazioni di scendere dove non c'era la banchina, e ho fatto tutta quella sceneggiata terrificante, che Minussi è spaventata, siamo rimasti un po' così, e poi basta, lì c'hanno a due sciure, proprio le sciurette, che la stavano, spesso la stavano raggiungendo, ha fatto sta bullaggine da pazza, che cosa ne ha guadagnato, non lo so, perché ha detto veramente le peggio parole, assassini, ma poi delle parolacce, ma era l'atteggiamento proprio, guardate, faceva spavento, e poi finta di niente, facendo finta di niente, con le signore, ha continuato a parlare dell'evento, ma con un atteggiamento diverso, dico, santa pace, spero di non incontrarti mai più sulla mia strada, che spavento, uno poi si trasforma e si trova una bocca di drago davanti, e pensavo davvero a un essere umano, quindi come abbiamo finito la giornata, ridendo, ecco, ridendo, ridendo dopo questa scena, dopo lo spavento di Minu, poveraccia, ecco, è tutta un'intermittenza, tutto succede, susseguirsi di cose, quindi la fine è stata buona, anche per Michela, che ha risolto, è stata una folla, è partita così, all'avventura, meno male, ha risolto anche la sua, come si può dire, la giornata, quindi si è incontrata con questo suo affetto, questa sua amica che non vedeva da vent'anni, ma che sente frequentemente, quindi è stata in compagnia, ha dormito in compagnia, accudita, nel senso, gli è stata data ospitalità nella capitale, meno male, ha trovato un treno il giorno dopo, quindi ieri è rientrata, è in beata pace, adesso sarà al lavoro, perché si alza presto, Grazia è al lavoro, Nancy sarà occupata con i propri impegni, quindi è andata bene, la nostra gita a Roma è andata bene.